Salve, io sono Angelo Maggio, ritorno a Soveria dopo una serie di mostre. Questa qua sarà, questa che vedrete oggi sul non finito calabrese, elemento che caratterizza il paesaggio della nostra regione. L'incontro si svolgerà qui nell'Anificio Leo all'interno della manifestazione Shabbaka. Speriamo di sentire degli interventi interessanti anche perché gli spunti offerti sono tanti. Grazie, ciao. Grazie a tutti.